Ciao ragazzi, benvenuti a Serralab, io sono Sebastiano e in questo video vorrei parlare del tema dell'externa portata per il nostro Xiaomi G. Perché questo? Ovviamente il Xiaomi G è una davvero bella action cam, ma la sua durazione di batteria rende l'insuitabile per molti risultati, come i video di timelapse, per esempio. Se prendiamo una foto ogni 10 secondi, la batteria costa meno di 2 ore, e questo è un problema per la mia necessità di fare video di 3D, perché un 3D print può costruire anche più di 5 ore. Fortunatamente, possiamo collegare un'externa portata per rendere il nostro Xiaomi G indipendente sull'attività di batteria, solo ad aggiungere l'usb-cable e connessurarlo ad un'externa usb-power source, come il power charger del mio smartphone, la soluzione che ho usato per 3D printing. In questo modo, l'unico limite per timelapsi è la capacità di memoria dell'SD card inserita in l'action cam. E' questa è la migliore soluzione che possiamo adottare all'interno, ma se stiamo al top di una montagna, in order to make a timelapse delle cloud che muove in un valle, dobbiamo collegare l'action cam ad un usb-power bank. In questo modo, il limite è la capacità di batteria dell'usb-power bank, in addition all'interno dell'interno. Ma come vedete, il principale funzionale è lo stesso, solo collegare l'usb-cable ad un usb-power source. E se volete poter portare l'action cam ad un pc, come vedete, se connettiamo all'usb-power the cam starts in the data transfer mode and you can't use it for taking pictures, videos or timelapses. The solution in this case is starting the timelapse before connecting to the pc. So, let's watch some timelapses. Grazie. 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 Grazie a tutti. False. Are you surprised about this lifetime lips? I'm going to place a bet on the fact that you don't believe that I did it by using my Xiaomi G action cam. I'm going to show how to do that in another video. In questo video, vedete che è molto facile di esternamente poterciare il nostro Xeon EG in order to increase the battery duration. Ora, se siete interessati in una soluzione avanzata che mio amico Boris ha adottato per il suo reflex, guardate il video tutorial, è molto interessante. Grazie per la visione e ci vediamo la prossima! Ciao!